Noto ai più per essere stato il maestro di Caravaggio, Simone Peterzano fu uno degli esponenti del tardo manierismo lombardo. Allievo a Venezia di Tiziano fece la sua comparsa sulla scena milanese con gli affreschi della controfacciata della chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, dove traspare la sua formazione veneta, in particolare con riprese dell'arte di Paolo Veronese e Tintoretto. Tra le opere anche una bellissima Madonna col bambino, che dopo curato restauro per volere del comune e della parrocchia di Nembro, verrà esposta per essere ammirata in tutto il suo splendore nello spazio Viterbi della provincia e via Tasso a Bergamo. Si desidera portarlo in città per far conoscere alla gente l'importanza di queste opere custodite in questi preziosissimi scrigni che sono tutte le centinaia di chiese del territorio bergamasco. Simone Peterzano è diventato famoso soprattutto perché è stato l'insegnante di Caravaggio nel periodo milanese, quindi le grandi opere che oggi vediamo all'Ambrosiana provengono da quel periodo di Caravaggio, quindi il suo insegnante ha veramente preso un'importanza, oltre che essere Peterzano, anche di origine bergamasca, in particolare di San Giovanni Bianco in Val Brembana, quindi abbiamo un autore che a maggior interesse è per la cittadinanza bergamasca. Questa iniziativa, portata avanti dal comune di Nembro e dalla parrocchia di Nembro, è fatta congiuntamente con la soprintendenza. L'obiettivo è quello di allestire entro fine anno una mostra che possa raccogliere opere di grande livello artistico. Si parla anche di possibili personaggi del 500, Tiziano, eccetera, che potrebbero arrivare qua a Bergamo, quindi questo periodo dal 7 novembre al 6 gennaio è in previsione un'importante mostra e noi come provincia facciamo la parte che ci è stata chiesta, non abbiamo un impegno nostro diretto economico, diamo gli spazi per la parte economica, sono sponsor privati e il comune di Nembro, quindi a loro vanno i complimenti. Grazie a tutti.